Marco è arrivato ieri da Jakarta Adesso siamo qua nel nostro albergo Sotis, Ancupang E prendiamo questa barca qua per andare nel Pulau Kera È un'isoletta a 30 minuti da qua I ragazzi stanno spingendo perché si è incagliata Adesso si sta liberando Marco è salito a bordo Io salgo a bordo e ce ne andiamo Video 20 novembre Marco guida Torino in Indonesia La strada è messa male La strada è bloccata Allora il nostro Marco Ti apri il gas alla fine Poi ti aiutti con le gambe Sono tu? No, voglio vedere te Ma come io voglio? La strada c'è un piccolo buco No, una piccola imperfezione E diciamo Una roba Poco contro Piccolo bucchetto Piccolo bucchetto Appri il gas Appri il gas adesso Vai Marco Appri il gas Ormai è un indonesiano Che pazzi No, abbia segnato anche questo Non posso farlo vedere No, abbia segnato anche questo Che pazzi Che pazzi E' un tipo Guitare Che pazzi Perfetto E' un tipo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Con la lingua fuori c'ha fame Stai riprendendo? Grazie a tutti Grazie a tutti